Carissimi amici di Incognita, per festeggiare l'uscita dalla quarantena e cominciare a propiziare i nostri prossimi incontri in carne ed ossa, l'ultimo strano articolo sarà offerto a chi lo richiederà all'indirizzo info-incognita.online. Gli iscritti alla Advanced Creativity Mind School lo troveranno come di consueto nella propria casella mail a partire dal pomeriggio di domenica 10 maggio. Evviva da Gianluca Maggi